Musica Udienza del Santo Padre Papa Francesco alle popolazioni colpite dagli eventi sismici dell'Italia centrale a partire dal 24 agosto fino ad arrivare alla scossa del 30 ottobre. A guidare le circa mille persone della diocesi l'Arcivescovo di Spoleto Norcia Monsignor Boccardo che ha affidato a Don Luciano Avenati, parroco di Santo Tizio, di portare il saluto al Santo Padre. Qui ci sentiamo a casa nostra, la ringraziamo per l'attenzione costantemente e concretamente dimostrataci, dice Don Luciano, non abbiamo più una chiesa, non abbiamo più le case, ma questo Natale l'abbiamo passato recuperando nel vero spirito. Andarcene dalla nostra terra, prosegue, avrebbe significato ferirlo ulteriormente. Siamo rimasti e da qui ricostruiremo. Ci benedica, Santità, affinché in noi possa esserci una nuova fioritura. Papa Bergoglio, ascoltato attentamente, ha preso e fatto sue le parole che vi escono dal cuore. In queste situazioni, continua Papa Francesco, bisogna lasciare spazio alla speranza. Seppur perdendo tante cose, siamo comunque diventati una grande famiglia, andremo avanti insieme e ricostruiremo le case, le chiese e il tessuto sociale. Al termine dell'udienza il Papa ha stretto mani e salutato idealmente tutti i presenti. Chissà che dopo l'udienza di oggi questo non sia il preludio di una prossima futura visita in Umbria, magari per verificare lo stato dell'arte di quel tessuto sociale da ricostruire. Avevano 12 kg di hashish nascosti in macchina. Due marocchini sono stati scoperti e arrestati dai carabinieri di Terni. Ieri sera, intorno alle 20, un equipaggio dell'aliquota radiomobile, impegnato in un posto di controllo all'interno di un distributore lungo il raccordo Terni-Orte, ha fermato un'autovettura di grossa cilindrata con a bordo i due nordafricani. Ad insospettire militari, il comportamento del guidatore, che alla vista dell'auto di servizio ha provato a rientrare nel rato. I due occupanti, entrambi marocchini residenti nel Perugino, gravati da precedenti di polizia per reati inerenti agli stupefacenti, hanno provato a convincere l'equipaggio accampando scuse fantasiose. Da qui il controllo approfondito del mezzo che ha dato esito positivo. Infatti, occultati nel vano della ruota di scorta del portabagagli, i militari hanno trovato hashish per oltre 12 kg. La droga che i due, un 25enne e un 23enne, trasportavano era composta da oltre 10 kg in panetti da 500 grammi e da altri 2 kg in quasi 200 ovuli da 10 grammi. Alla coppia sono stati sequestrati anche 800 euro in contanti. Sono così scattate le manette ai polsi dei marocchini, accusati di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed ora si trovano nel carcere di Sabbione. Nel corso della conferenza stampa, la quale ha preso parte anche il comandante provinciale Giovanni Capasso, è stato detto che verranno svolti ulteriori accertamenti sia per definire la qualità dello stupefacente, che ha comunque un valore di mercato al dettaglio di circa 120.000 euro, che la destinazione dello stesso. I passeggeri transitati nel 2016 presso l'aeroporto internazionale dell'Umbria, Perugia-San Francesco d'Assisi, sono stati 221.941, con una contrazione del meno 19% rispetto al traffico del 2015, 274.028 passeggeri. Il dato, pur negativo, rappresenta in ogni caso un netto miglioramento rispetto alle iniziali pessimistiche previsioni, che tenuto conto delle cancellazioni e riduzioni annunciate da Ryanair e dall'Italia facevano temere una potenziale riduzione del 30-35%, ovvero circa 90.000 passeggeri. Grazie invece ad un secondo semestre che ha visto l'attivazione di nuove rotte, molto positivo in particolare all'impatto del nuovo collegamento annuale Perugia-Catania e al miglioramento delle medie e delle tratte già operative, si è registrato un buon recupero che consente allo scalo di registrare il secondo miglior risultato della sua storia, superando i 215.550 passeggeri raggiunti nel 2013. Per quanto riguarda il traffico di aviazione generale ed executive, il traffico è rimasto sostanzialmente stabile, con circa 3.600 passeggeri transitati. La stima di traffico per il 2017, considerando solo i collegamenti ad oggi sia schedulati, è di circa 245.000 passeggeri. In ogni caso continuano i rapporti con operatori già attivi sullo scalo o nuovi vettori per la riattivazione dei collegamenti sospesi ed attivazione di nuove rotte, sia charter che di linea. Al via oggi saldi invernali anche in Umbria. Secondo le stime dell'ufficio studio di ConfCommercio, ogni famiglia spenderà 344 euro per l'acquisto di capi d'abbigliamento, calzature, pelletterie, accessori ed articoli sportivi. Numeri alla mano gli Umbri spenderanno mediamente come nell'anno precedente. L'Umbria, commenta Carlo Petrini, presidente Federmoda ConfCommercio Umbria, è tra le regioni che più di altre hanno subito gli effetti di quella mancanza di stabilità che gele i consumi e di cui tutti hanno bisogno per affrontare confiducia il futuro. I saldi iniziati oggi dureranno 60 giorni e termineranno il 5 marzo. Va ricordato che la possibilità di cambiare il capo dopo che lo sia acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e nel caso ciò risulti impossibile la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare l'avvizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. Infine non c'è l'obbligo di far provare i capi, opportunità questa rimessa alla discrezionalità del negoziante. I primi tre mesi di attività l'emporio Bimbi ha fatto registrare numeri interessanti. La struttura, gestita dalla San Vincenzo dei Paoli in via Pascoli e a Terni, è destinata esclusivamente ai più piccoli con servizi ricreativi e fornitura di beni di prima necessità per bimbi e mamme. Sono quasi 200, dal 27 settembre ad oggi, i bambini che sono venuti. 90 famiglie di diverse nazionalità che prendono un po' tutto il mondo, perché abbiamo dall'Africa al Sud America la nazionalità più presente, la nazionalità albanese. Sono le famiglie che seguiamo con la San Vincenzo, già nell'attività ordinaria, a cui si sono aggiunti dei casi nuovi perché hanno saputo di questa opportunità. Quindi dei bambini che magari non hanno soltanto problemi economici, che sono quelli che già un pochino seguiamo noi, ma che hanno problemi relazionali. Nei primi 100 giorni di vita dell'Emporio Bimbi sono stati distribuiti 4.000 pezzi. Dopo un aiuto iniziale la struttura ha bisogno di supporto. Per fortuna abbiamo avuto in una fase iniziale un bel finanziamento della banca di credito cooperativo che ci ha dato 5.000 euro e quindi in questi mesi siamo potuti andare avanti così. Adesso ci troviamo in una situazione di un po' di difficoltà, perché ovviamente l'attività ha preso molto piede e c'è sempre più richiesta e c'è sempre più bisogno quindi di mezzi finanziari anche per poterla portare avanti. E stiamo finendo un po' i nostri mezzi, quindi speriamo che qualche altra persona di buona volontà, come già abbiamo comunque avuto modo di sperimentare, si possa facciare anche in questo nuovo anno. È stata ricordata anche la tradizionale festa della Befana della San Vincenzo, che si terrà domani presso il Centro Sociale di Valenza. Una tradizione d'inizio anno, una piacevole occasione di feste e d'incontro per molte famiglie per ritrovarsi insieme. Da mercoledì 11 a venerdì 13 gennaio alle 21, Michele Riondino porta in scena al Teatro Morlacchi di Perugia il suo nuovo spettacolo, angelicamente anarchici, accompagnato dalle musiche eseguite dal vivo da Francesco Formi, Laria Graziano e Remigio Forlanotto Riondino, da voce a Don Andrea Gallo e racconta il suo quinto Vangelo, quello secondo Fabrizio D'Andrea. I miei Vangeli sono cinque, Matteo, Marco, Luca, Giovanni e Fabrizio. È la mia buona novella laica, scandalizza i benpensanti, ma è l'eco delle parole dell'uomo di Nazareth, che ne sono certo, affascinò il mio amico Fabrizio. Quella tra Don Gallo e D'Andrea è stata un'amicizia intima e fortissima. Ad unire profondamente il poeta e il sacerdote anarchico sono stati il desiderio di giustizia, la cultura libertaria e soprattutto la concezione della vita come cammino e incontro, prescindendo da qualsiasi pregiudizio. Per comporre il suo Vangelo laico, Don Andrea Gallo ha scelto alcune delle più belle canzoni di D'Andrea, nelle quali ha rintracciato il nucleo del messaggio evangelico, che è un messaggio penetrante ed universale. C'è la coscienza civile, la comprensione umana, la guerra all'ipocrisia e il desiderio di riscatto della condizione umana immarginata, perché dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori. Senza passare per il via, io con l'utopia, dunque, che sta all'orizzonte. Ma vado chiudere occhio! Paolo Triestino, Nicola Pistoia ed Elisabetta De Vito sono i tre comici protagonisti di Ben Hur, una storia di ordinaria periferia. L'opera sarà in scena mercoledì 11 gennaio alle 21 al teatro dell'Accademia di Tuoro sul Trasimeno. Lo spettacolo affronta i temi scottanti dell'immigrazione e del razzismo, in un modo nuovo e con ironia. Il testo di Gianni Clementi riesce a rappresentare argomenti di grande attualità con disarmante semplicità. Fa scaturire nel pubblico momenti di profonda riflessione, ma anche di grande ilarità. Sergio, il regista Nicola Pistoia, è uno stuntman caduto in disgrazia dopo un avvio di carriera eccellente. Ha lavorato con Spielberg nel film Salvate il soldato Ryan. Un incidente sul set gli renderà impossibile continuare a lavorare, costringendolo a un'eterna attesa di un risarcimento. Risarcimento che tarda ad arrivare. Così, per sbarcare Lunario, si arrangia a posare vestito da centurione per i turisti che arrivano al Colosseo di Roma. Sua sorella Maria, Elisabetta De Vito, è separata e per arrodondare è costretta a lavorare in una chat erotica al telefono. A interrompere la monotonia arriva Milan, Paolo Triestino, ingegnere della Bielorussia, che ha tanta voglia di lavorare. Per mandare soldi alla famiglia, Milan si arrangia a far di tutto, anche a sostituire Sergio nel suo ruolo di centurione. Una lettura gioiosa del classico dei classici natalizi e il canto di Natale, ovvero come non dimenticarsi di essere generosi. In scena il laboratorio teatrale dell'Università Libera di Bastia, diretto da Roberto Biselli. Questa sera, nella sala espositiva delle monache benedettine a Bastia Umbra, è andato in scena il laboratorio dell'omonimo racconto di Diggens. Il testo coglie il principale significato del racconto e lo offre al pubblico come riflessione sugli aspetti meno nobili presenti in ciascuno di noi e sulla possibilità di un generoso cambiamento. E la vigilia di Natale e l'usuraio Scourge sta lavorando nel suo ufficio, ignorando qualsiasi sentimento di festa e di solidarietà. Durante la notte gli appaiono, prima, il fantasma del suo socio Marley, a seguire gli spiriti dei suoi Natali passati, presenti e futuri. In questo modo, Scourge ripercorre la sua vita triste e intravede una terribile morte in solitudine. Questo doloroso viaggio lo aiuta a trovare la forza per esprimere le sue buone qualità, caratteristiche che fino ad allora aveva soffocato con il miraggio dell'oro. Gli allievi di Roberto Biselli si sono dimostrati all'attezza dell'opera, sapientemente diretti dal loro maestro e regista. Hanno gestito la lettura in maniera colorata e vivace, identificandosi di volta in volta nei vari personaggi. All'evento era presente anche l'assessora alla cultura, Claudia Lucia. Tu? E io? Signore? Sì, proprio tu bambino? Che stai cantando? Che stai cantando?